Ciao, devo fare un aggiornamento a questo mio vecchio video che vi spiegava come utilizzare i profili ICC, quelli che ottenete dal colorimetro se ce l'avete per calibrare il vostro display, dentro a Blender. Quindi come fare in modo che in Blender i colori vengano corretti in base al profilo ICC del vostro monitor. Vi consiglio comunque di guardare questo video perché c'è la spiegazione teorica, solo che siccome nelle versioni di Blender più nuove è cambiato un po' il file di configurazione, sono diverse le cose da scrivere. Questa è una piccola scena d'esempio. Vi mostro come prolungare la lista dei display di base contiene sRGB. Per fortuna nel nuovo Blender c'è anche display P3 per chi appunto ha dei display Wide Gamut. Però se voi volete mettere il vostro display, quindi con la correzione specifica per il vostro display, è possibile andare, per esempio nel mio caso è una Cintiq, e quindi posso andare a selezionare il profilo della mia Cintiq e utilizzare anche le trasformazioni di base che ci sono, quindi standard o AGX, esattamente come era possibile nel display P3. Quindi ho utilizzato come base display P3 per creare questo profilo Cintiq 24 Pro perché questa Cintiq è un display molto simile a display P3. Quindi cercate di capire se il vostro display è ad ampia gamma e allora vi conviene partire come base da display P3, oppure se è a gamma tradizionale e quindi vi conviene partire da sRGB. Come punto di partenza voi dovete avere il profilo, questo formato ICM, creato dal vostro calibratore. Quindi avete il calibratore, fate la calibrazione del display, vi ritrovate con questo profilo. Viene di solito dal software di calibrazione inserito in questa cartella, che è la cartella di Windows, quindi C, Windows, System32, Spool, Drivers, Color. Occhio che la cartella Spool è nascosta e quindi o la scrivete a mano così nel path, oppure dovete attivare la visualizzazione dei file nascosti per arrivarci. In questa cartella ci sono tutti i file di cc del vostro sistema e troverete anche quello del vostro monitor. Quindi sappiate qual è perché l'avete creato calibrando il display. Come spiego nell'altro video, l'altra cosa che vi serve è questo software che si chiama DisplayCal. Cercatelo su Google, è gratuito e in realtà sarebbe un software per appunto calibrare il display, ma nel nostro caso non lo useremo. Se volete utilizzatelo pure per calibrare il display, però noi ne useremo un piccolo programmino interno che si chiama FreeDLatMaker. Quindi una volta installato vi troverete questo qui, FreeDLatMaker, come programma installato. Lo fate partire ed è una schermata piuttosto semplice. Ha un profilo di partenza che nel mio caso sarà DisplayP3 perché è appunto quello più simile al mio monitor. Se per voi invece quello più simile è sRGB partite da sRGB, comunque nel mio caso appunto DisplayP3. Dopodiché dovete qui selezionare, cliccando questo tastino e andando a selezionarlo appunto nella cartella che vi ho detto prima, C, Windows, System 32, dovete andare a selezionare il vostro profilo. Disattivate ApplyCalibration qui e potete lasciare RelativeColorimetric e come formato della LUT andate a scegliere SPI3D. Dopodiché dovete semplicemente premere il tasto Create FreeDLat e vi chiederà di un posto e un nome per questo nuovo file. Allora, dategli un nome che vi permetta di ricordarlo, mettetelo in una cartella dove lo ritroverete. Nel mio caso il nome che gli ho dato appunto è da Sintiq a Display, insomma ho collegato i due profili nello stesso nome in maniera da sapere che questa è la traduzione da uno all'altro, ma scegliete voi questo nome e salvatelo in una cartella a piacere. Quando la procedura è finita, dura qualche minuto, potete chiudere FreeDLat e a questo punto dovete trovare la cartella di installazione di Blender. Quindi andate a cercare la cartella di installazione di Blender e troverete il numero della versione, nel mio caso è 4.1. Entrate nella cartella con il numero della versione, entrate dentro Data Files e dentro Color Management. In questa cartella troverete due cartelle, Filmic e Lats e poi un file che si chiama ConfigOcho. Non fate caso a questo che l'ho creato io, è solo una copia di backup. Allora, nella cartella Lats troverete tanti file dello stesso tipo che abbiamo appena creato. Qui in questa cartella ne vedete molti, ma è una mia configurazione, ne troverete sicuramente molti meno, però per esempio avrete questi qui all'inizio. Copiate dentro il vostro, quello creato con FreeDLatMaker e quindi eccolo qua, per esempio, appunto, quello che ho appena finito di creare. Quindi lo mettete dentro alla cartella Lats. Dopodiché risalite, appunto, qui e andate a editare con un editor di testo il file ConfigOcho. In questo file, se scendete, troverete questa lista sotto Displays, che non è nient'altro che la stessa lista che si vede in Blender. Questa, appunto. Quindi ci troverete a sRGB, DisplayP3, REC1886 e REC2020. Eccoli qui, dovreste trovare la zona scritta in grigio nel vostro file. Questa zona qua sopra è quella, appunto, che ho aggiunto io. Quindi voi fatevi spazio, aggiungete il nome che preferite per il vostro profilo. Quindi, nel mio caso, l'ho chiamato Cintiq 24 Pro. Dopodiché queste righe, queste tre righe, sono la copia delle righe che ci sono sotto DisplayP3, appunto, perché sono partito da questo. Però ho cancellato la View False Color perché non la utilizzo. Quindi ho copiato, appunto, queste quattro righe e le ho incollate. E sono andato a cambiare questo nome qua in fondo, quindi da DisplayP3 e AGX Base DisplayP3. L'ho cambiato con un nome mio. Potete mettere quello che volete. Dovete dare un vostro nome al Color Space. Io gli ho dato al Color Space Base lo stesso nome del display. E invece questo, che essendo quello AGX, l'ho chiamato, siccome questo iniziava con AGX Base DisplayP3, l'ho chiamato AGX Base Sintiq 24 Pro. Comunque, cambiate questi due nomi con i due nomi che preferite. Mentre invece per RAW non serve fare niente. A questo punto dovete, alla fine di questa lista, c'è questa voce Active Displays e contiene lo stesso elenco, questo qui, questi quattro elementi che sono qua sopra. Sare GB, DisplayP3, RECO86. Voi aggiungeteci davanti, dietro, dove volete, il vostro. Quindi quello che avete scritto qui, come tipo di display. Dovete farlo perché questo praticamente è l'elenco che vedete nella casellina di Blender. Quindi se non lo elencate qui, non lo trovate nella casellina di Blender. E quindi potete anche posizionarlo dove volete, alla fine, davanti. Se non cambiate nome a queste View, quindi Standard, AGX e RAW, non serve che facciate nient'altro. Volendo potreste cambiargli anche nome e allora dovete ricordarvi in Active Views di elencarle. Comunque non è necessario appunto. Potete lasciare Standard e AGX e vedete che ci sono qua elencate Standard e AGX. Queste due View vanno definite, cioè questo è solo il loro nome, vanno definite. Si definiscono più sotto, qua sotto dove inizia Color Spaces. Il vostro Color Spaces dovrebbe iniziare con questo. Vedete, Color Space, Linear, eccetera. Voi dovete selezionare quello di partenza, quindi nel mio caso è DisplayP3. E quindi di conseguenza, diciamo, lo dovete cercare in questa lista. Se scendo vado a cercare quello con il nome esatto DisplayP3. Allora un attimo di pazienza. E vedete, qua c'era l'SRGB. Eccolo qua, DisplayP3. Quindi tutta questa sezione, tutta quanta, dalla riga vuota prima alla riga vuota dopo, è quella che vi serve. Quindi voi copiate tutta questa sezione e tornate più su all'inizio della lista. Io vi consiglio di metterlo all'inizio della lista perché è più facile da trovare. Quindi appena dopo Color Spaces la incollate. E questo non è nient'altro che il risultato di quell'incolla. È esattamente la stessa cosa. Solo che, ovviamente, vado a cambiargli nome. Quindi dove prima c'era scritto DisplayP3 ci scrivo Sintiq 24 Pro perché è il nome che ho deciso di dargli qua sopra. Sintiq 24 Pro. Quindi deve corrispondere. Quindi lo scrivo qui. Negli aliases ho cambiato un paio di nomi anche qua. Era una lista più lunga ma potete anche... Io l'ho tagliata a due soli elementi. Quindi cambiate pure anche questa riga. E sotto descrizione potete scrivere quello che volete. Quindi in questo caso ho scritto questo, tanto per riempire. E la riga Children inizialmente ha due righe. Quello che voi dovete aggiungere è... Adesso zoom indietro perché in realtà dovrebbe stare tutto su una riga. Vedete, era andato a capo solo per questioni di visualizzazione. Voi dovete aggiungere questa riga qua. File Transform. La trovate. Ce n'è tante di queste righe File Transform anche più sotto. Quindi potete andare a cercarne un'altra. Quindi scendete piano piano e trovate una riga. File Transform qualsiasi sotto Children e andate a prenderla tipo questa. E la copiate e la incollate. Ve la riportate dove volete metterla. Dovete metterla alla fine. Quindi dopo questo Exponent with Linear aggiungete la riga File Transform. Sotto SRC questo è un nome di file. E deve essere il nome del file che avete creato con 3D LUT Maker. Quindi quel file che abbiamo incollato nella cartella LUT. Quindi questo. Questo qui nel mio caso. Nel vostro caso magari ha un altro nome. Quindi aggiungete il nome del file dopo SRC al posto di quello originale. e dopo Interpolation scrivete Best. Questa riga cosa fa? Praticamente prende il risultato di tutto quello che c'era prima che era il display P3. E in più ci aggiunge una trasformazione da display P3 a il vostro display. E quindi in pratica trasforma il display P3 nel vostro display. E finisce per mostrarvi i colori corretti. Allo stesso modo bisogna ricopiare anche la sezione AGX. Quindi anche questa. Andate a cercare. Comun cerca e trova con AGX base. Andate a cercare quella. Eccolo qua. Questa era quella del 2020. Se io faccio avanti avanti. AGX base sRGB. Ecco. Io ho preso questa sezione di AGX base display P3. Che era appunto il mio template di partenza. Ho copiato tutte queste righe. E le ho incollate subito dopo la prima. Quindi. Eccoci qua. Quindi finita di fare la prima. Ho fatto quest'altra. Dove ho incollato quella di AGX base del display P3. Ho cambiato nome. In maniera tale. Esattamente come prima. In maniera tale che corrisponda alla stessa cosa che io ho scritto quassù. Nelle voci del display. Dopodiché l'altra cosa da cambiare. La descrizione dove potete scrivere quello che volete. E qui la situazione è simile. Cioè come ultimo children di questa sezione che si chiama from scene reference. Quindi prendete la stessa riga che avete scritto qua sopra. E la incollate anche dopo l'ultimo color space transform. E quindi vedete questa riga qui non è nient'altro che la stessa che c'è quassù. Questa sezione qui ha anche la voce to scene reference. E allora voi potreste anche completamente cancellarla. Volendo. Provate. Comunque in realtà siccome questa è la trasformazione inversa. Io ho preso la stessa riga di file transform. E l'ho incollata non alla fine ma all'inizio. Quindi prima delle due trasformazioni. Perché questa è la trasformazione inversa. E quindi la trasformazione va fatta all'inizio. E bisogna metterci appunto virgola e direction inverse. Occhio appunto anche qua che in realtà è tutto su una riga. Vedete? Virgola direction inverse. Questo tipo di file è molto... Dovete fare molta attenzione a rispettare perfettamente il modo in cui è scritto. Quindi per esempio se qui ci sono due spazi voi non potete farne uno. Altrimenti Blender si pianterà ogni volta che parte e si crescia. Quindi dovete rispettare perfettamente quel che c'è scritto. Le righe vuote devono essere vuote. Non può esserci neanche uno spazietto. Quindi fate molta attenzione a come lo scrivete. Quindi in pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto una sezione. Aggiunto le tre voci. Ma in realtà appunto row dobbiamo solo elencarla qui. Non fa niente. Potete anche tirarla via. E le due sezioni importanti sono quella senza alcuna trasformazione e quella con la trasformazione AGX. Se non vi interessa l'AGX potete fare a meno di mettere anche questa riga. E poi dovete andare a creare il color space delle righe che avete creato. E quindi in questo caso sono due. E quindi li ho creati copiando, incollando e modificando leggermente quelli del display P3. Fatto questo, se Blender non crescia all'avvio. Se cresce è perché avete fatto qualche piccolo errore qua dentro al file. Andate a guardare bene di non aver fatto spazi sbagliati, invii sbagliati, righe vuote che contengono in realtà degli spazi o dei tab. Una volta fatte queste piccole modifiche, che comunque le trovate spiegate meglio nel vecchio video. Vi consiglio comunque di andare a vedere il video precedente in cui la spiegazione la faccio meglio e più lunga. E così vi faccio capire bene cosa c'è da fare. Solo che di questo video dovete ignorare la parte di editing del file configoccio e utilizzare l'informazione che vi sto fornendo adesso. Perché in pratica è cambiato il file configoccio e quindi non trovate le cose che vi descrivono in questo file. Ma il criterio è esattamente lo stesso. Quindi una volta chiuso e riavviato Blender con queste modifiche, voi qui avrete display P3 ad ampia gamma. Avrete sRGB se vi interessa, però avrete anche il display del vostro monitor. E per di più potete scegliere se non applicare alcuna trasformazione, che nel caso del file di esempio che ho fatto qui appositamente si può notare come clippino tutti quanti questi arcobaleni di colore con la trasformazione standard. Ovviamente il risultato è piuttosto scarso. E AGX è fatto apposta per evitare questo problema e quindi appunto in genere è meglio utilizzarlo. Una volta c'era Filmic, anche Filmic tutto sommato aveva i suoi problemi. Vi rimando a degli altri video che altre persone hanno fatto su che senso ha AGX, Filmic oppure standard. Comunque in ogni caso quello che mi interessava era mostrarvi che si può quindi utilizzare il profilo ICC di un monitor calibrato per vedere in Blender il risultato calibrato. In questo modo voi siete sicuri che quello che vedete sul display corrisponde perfettamente al profilo del vostro display e quindi è corretto da quel punto di vista. Quando salvate il file ovviamente se lo salvate col profilo del vostro display poi dovrete convertirlo con Photoshop o qualcos'altro. Diciamo che rispetto a utilizzare il profilo base display P3 se il vostro monitor non è esattamente display P3 e nessuno lo è perché ogni monitor è diverso. Se avete un colorimetro è proprio perché conoscete queste cose. Questo vi permette in Blender di vedere dei colori accurati e corretti secondo il profilo del vostro display. Grazie e alla prossima!